Il mio nome è Jennifer Wolf, rappresentante di Rudefex Trading. Abbiamo una Expo Beauty con un prodotto unico al mercato che ha un shampoo per uomo. È un prodotto medico che ha specialmente per lavare, borrante e imparare l'uovo profondamente. È un lavoro di segno per curare l'inflammazione dell'uovo, che si chiama blefaritis. La blefaritis è un problema di uomo comune che ha un problema di uomo con l'inflammazione dell'uovo. È un lavoro molto buono per fare l'inflammazione dell'uovo, per fare l'inflammazione dell'uovo, per fare l'inflammazione dell'uovo, per fare l'inflammazione dell'uovo. Normalmente non si lavano l'uovo con acqua, per fare l'inflammazione dell'uovo. È un shampoo che lipa in profondamente. È un problema di uomo con acqua, per fare l'inflammazione dell'uovo, per fare l'inflammazione dell'uovo. È ottenuta nelle diverse bottiglie. ma non si può fare il nostro via Facebook